Allora ragazzi, c'è una cosa che dovete capire bene e che dovete ficcarvi in testa, è che un funnel è meglio che 10. Bene sì, un funnel è meglio che 10 e all'interno di questo video capirai perché e capirai perché la maggior parte delle persone che va contro questo principio si sta sbagliando clamorosamente e molto presto probabilmente pagherà le conseguenze di quanto sta dicendo. Allora, cerchiamo di capire in maniera molto semplice per quale ragione un funnel è meglio che 10. La prima ragione è molto semplice ma nel business vince la semplicità. Quindi quello che adesso facciamo all'interno di questo video è proprio spiegare innanzitutto quali sono le ragioni dietro questa mia dichiarazione molto controcorrente e successivamente andremo proprio a vedere qual è la strategia esatta che dovresti implementare sin da subito se vuoi notare straordinari risultati e far girare il tuo business come dovrebbe girare per davvero, ovvero in evergreen. Allora, la prima ragione è la semplicità. Ogni qualvolta che dobbiamo fare business, ogni qualvolta che dobbiamo in qualche modo avere a che fare con i numeri, perché nel business abbiamo a che fare con i numeri, devi mantenere tutto quanto più semplice possibile. Ogni singola volta che vai a complicare un processo di acquisizione dei clienti oppure di conversione dei clienti, ogni qualvolta vai in qualche modo ad introdurre della complessità all'interno del tuo modo di fare business, rischi veramente di perdere un sacco di soldi e soprattutto rischi di non sapere più come tornare al punto precedente che magari funzionava non tanto quanto volevi, ma comunque funzionava meglio del nuovo cambiamento che magari hai apportato. La maggior parte delle persone che mi fa magari le domande in consulenza oppure all'interno anche dei gruppi dei nostri studenti mi chiede tante volte, io vorrei avere dei numeri più alti, vorrei convertire meglio, che ne pensi se inizio a modificare questa cosa sul funnel, se faccio più punti d'ingresso, se faccio questo, se faccio quello, se adatto ad ogni singolo interesse che metto su Facebook una determinata landing page se creo più punti d'ingresso. Allora, per quanto il concetto possa essere assolutamente corretto, perché in qualche modo hai la possibilità di andare a intercettare e laserizzare in maniera maniacale il tuo messaggio senza dispersioni di comunicazione, dall'altra parte diventa veramente complesso e super difficile gestire e mantenere più funnel contemporaneamente per runnare quello che è il tuo business. E lo stesso identico discorso ovviamente vale anche per differenti offerte che butti lì fuori sul mercato per riuscire a arrivare sostanzialmente sempre allo stesso identico punto. Qual è lo stesso punto? Il punto che accomuna, diciamo, la maggior parte delle persone che sono all'interno del business è avere più clienti, ok? Per avere più clienti ovviamente dobbiamo avere più leads, ma per avere più leads dobbiamo ovviamente creare più angoli che non sono più funnel. Potrebbe essere così, ma se vuoi complicarti la vita e non sapere più dove cazzo mettere le mani puoi farlo benissimo, se invece vuoi avere e gestire e scalare un business semplice da gestire, da domare, da capire e da scalare e migliorare, allora continua ad ascoltarmi, ok? Vince la semplicità. Prova a pensare al classico esempio della macchina da corsa. Ogni volta che una macchina vuole battere un'altra macchina, ogni volta che un pilota vuole vincere, che cosa fa insieme ai meccanici? Cercare di migliorare la macchina senza stravolgerla completamente, ma cercare anche di alleggerirla. Le macchine da corsa sono veloci anche perché non hanno tutti quegli optional e quelle robe superflue che hanno invece le macchine normali e tradizionali. Quindi lo scopo anche nella creazione della scocca è quello di renderla più semplice possibile, più leggera possibile. Si vanno a cercare delle materie con cui creare la scocca che siano molto 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 leggere per essere ovviamente più veloci. E allora la domanda che io ti faccio è se le macchine per andare più veloce hanno bisogno di essere leggere e di avere meno roba possibile, per quale ragione tu nel business per andare più veloce dovresti aggiungere della roba? Ti assicuro che aggiungendo della roba potresti avere un falso positivo nel breve termine, ovvero nel breve termine potresti anche aumentare quello che è il numero dei soldi che fai, ma nel lungo termine i lati negativi che questa cosa scatena sono impressionanti e te lo dice uno che fa questo mestiere dal 2015 e che per molti anni, soprattutto all'inizio quando nel panorama italiano non c'era praticamente un cacchio di nessuno, faceva un sacco di lanci, un sacco di lanci, un sacco di prodotti, nicchie anche diverse dove a volte non ci mettevo la faccia, insomma abbiamo fatto veramente un sacco di roba, ma alla fine della fiera sta roba non funziona, ok? Fare business e vendere business di informazioni, quindi dove vendi corsi, consulenze, seminari, a un certo punto deve essere necessariamente messo in evergreen e deve funzionare in evergreen con estrema semplicità, ok? Un'altra ragione per la quale un funnel è meglio che 10, e questa la dovete capire ragazzi, è che API semplici da guardare e da gestire. Ora, lo so che la maggior parte delle persone, nonostante io siano molti anni che mi impegni a dire ragazzi dovete gestire il vostro business di informazioni con i KPI, ragazzi senza KPI non andate da nessuna parte, ragazzi senza KPI non sapete cosa cazzo sta succedendo dentro la vostra azienda, ragazzi senza KPI eccetera eccetera eccetera, la gente ancora non lo capisce, ok? Quindi cerchiamo di aiutare anche i vari guru nati ieri a migliorare quella che è la loro realtà e il loro business. Allora bisogna comprendere una cosa molto basilare, che per riuscire ad avere risultati nel business nel lungo termine ragazzi, ripeto sono sul mercato da 7 anni, da 2, 1 o 3 o 4 e via dicendo, 7 anni, che faccio questo mestiere, vendevo informazioni quando la maggior parte delle persone che vedete lì fuori nelle campagne pubblicitarie probabilmente non è neanche un account pubblicitario o un account facebook, quindi so quello che sto dicendo, parlo per esperienza e tutte le cose che vedo fare sono errori che io ho fatto in passato e quindi sto anche facendo questo video per aiutare anche tra virgolette la mia nicchia, la mia industria a crescere, cosa che tra l'altro abbiamo sempre fatto da anni, ok? Siamo il punto di riferimento da cui tutti poi copiano e emulano in qualche modo, ok? Partendo dalle aree riservate, ogni singola cosa. E ci sta, va bene? Cioè il nostro obiettivo è quello di ispirare e elevare il livello dell'industria, quindi il mio scopo è anche quello di farmi copiare, va benissimo, non è un problema, ok? Ora i KPI sono gli indici chiavi di performance che voi dovete conoscere per il vostro business, che tu in questo momento che stai guardando video devi conoscere per portare avanti quello che è il tuo business, il che vuol dire che per riuscire ad avere dei KPI che siano semplici da leggere, semplici da gestire e semplici da replicare soprattutto mese dopo mese, mese dopo mese, mese dopo mese per poter ovviamente scalare e migliorare, implica il fatto che tu non debba avere dieci funnel differenti, perché sennò sarebbe ingestibile gestire dieci funnel completamente differenti che portano però a un obiettivo molto simile, non sapresti assolutamente dove mettere le mani, quindi devi rendere il tuo business semplice e rendere il tuo processo di acquisizione dei clienti molto semplice. Attenzione, semplice non vuol dire facile, perché non è un cazzo facile fare tutta questa roba, ma è semplice da gestire una volta che capisci come gestire il tuo business. Sono anni che insegniamo ai nostri studenti come creare KPI, quali KPI gestire, quali guardare e in che modo andarli ad analizzare quando il business non va bene. La gente quando non produce soldi tende a creare nuovi prodotti e lanciare nuove promozioni costantemente. Questa roba qua non funziona nel lungo periodo, quindi a meno che il vostro intento non sia quello di fare più soldi possibili nel prossimo anno barra anno e mezzo e poi fare tutt'altro, allora io starei un attimo a sentire questa persona qua che vi si para davanti e che vi si è parata davanti per dirvi queste robe qua. Ora gestire KPI è tutto, ok? Gestire KPI vuol dire che tu sai esattamente per ogni euro che spendi in pubblicità, che cosa succede all'interno della tua azienda e all'interno dei tuoi processi di acquisizione dei clienti, quanto ti costa ogni singola, ogni singolo click, quanto ti costa ogni singolo lead, quanto ti costa ogni singola persona che guarda il tuo primo contenuto, quanto ti costa ogni persona che prenota una consulenza strategica con te o con il tuo team, quanto ti costa la persona che effettivamente si presenta al telefono e parla con te o il tuo team per quella che può essere magari una sessione di ascolto, di scoperta e quanto ti costa ogni persona che poi al telefono acquista quelli che sono i tuoi prodotti, i tuoi servizi, i tuoi corsi, i tuoi programmi di consulenza, di coaching eccetera eccetera. Se tu non hai questi numeri stai brancolando nel buio, stai brancolando nel buio, stai facendo tutto fuorché gestire un business di informazioni come va gestito, ok? Ora io ti ho preso un esempio di un funnel molto semplice che è il classico VSL, ho studenti che fanno più di 80-90 mila euro al mese con un semplice VSL da più di tre anni, da più di tre anni, ok? Senza aver mai cambiato nulla se non strategie di angolo di attacco che cambiano e variano. Bisogna essere smart, intelligenti. Quello che funziona non va cambiato. Quello che va cambiato è tutto quello che viene dopo e che non va a bloccare un qualcosa che funziona. Non bevetevi tutte le robe ragazzi che vi dicono lì fuori, ok? Perché i fondamentali rimangono tali, ok? Punto numero tre. Per quale ragione è buono avere un funnel piuttosto che dieci? Dieci, ho detto, è ovviamente un esempio, eh? Punto numero tre. Focus sul messaggio. Chiave. Allora, ogni volta che una persona atterra all'interno del vostro funnel, questo ovviamente porta la persona a nutrirsi ed educarsi con del contenuto, formarsi, diciamo la parola non è proprio la più azzeccata, formarsi, ok? Con il contenuto chiave che spiega per quale ragione siete lì sul mercato di fronte a lui in questo esatto momento. Quindi avere un funnel che presenta quello che voi fate vi permette di rendere tutto molto chiaro, lineare e di essere focalizzati sul messaggio primario che volete condividere con il pubblico lì fuori. Voi potete acquisire clienti solo ed esclusivamente se attirate questi clienti, li intercettate all'interno delle loro giornate, li catturate all'interno delle vostre pagine, li nutrite attraverso i vostri contenuti, li portate all'interno delle pagine che sono molto prossime alla vendita e li convertite in clienti e successivamente li convertite in fan e quindi fidelizzate questi clienti, ok? Quindi questa è una cosa molto importante che dovete tenere in considerazione. Un'altra ragione molto importante è che è più facile scalare. Allora scalare che cosa vuol dire? Scalare vuol dire aumentare quello che stai guadagnando. Quindi se in questo momento tu stai facendo, faccio un esempio, 20.000 euro al mese, lo scopo della scalata è quello di fare i 20.000 euro nell'arco magari di due settimane e poi nell'arco di una settimana e poi nell'arco di un giorno, ok? Questo vuol dire scalare, ok? Prendere quello che stai guadagnando adesso e ridurre il tempo che impieghi per raggiungere quell'obiettivo, ok? E far diventare questa roba perpetua nel tempo, ok? Ora, quando tu hai un funnel da gestire nella fase di front, nella parte di front-end, quindi la parte di facciata, quella che si vede sostanzialmente, è molto più facile da scalare perché non hai dispersioni di budget e non butti soldi nel cesso. Che cosa vuol dire? Quello che generalmente accade a tutti coloro che hanno più magari di un funnel in front-end, ok? È che hanno un funnel che vince e un funnel che perde. Il funnel che perde brucia soldi del funnel che produce profitto. Quindi a un certo punto, alla fine del mese, tu hai tot funnel che ti bruciano cassa, che però ti stanno portando leads che magari un giorno si convertiranno. È un funnel che invece ti porta margini, però quei margini vengono erosi dal funnel che sta perdendo e tu non sai più che cazzo fare. In più devi gestire KPI, in più non sai dove mettere budget e in più nel 90% dei casi non sai minimamente come tracciare quella che è la strada che i tuoi leads stanno facendo. Infatti un altro punto molto importante è proprio la facilità di tracciamento del viaggio che il vostro prospect fa dal momento in cui entra in contatto per la prima volta con voi fino al momento in cui compra da voi e poi ricompra da voi e poi ricompra da voi. E anche qua, allora, chi vi dice che non è possibile tracciare il viaggio che l'utente fa dall'inizio fino alla fine, non è che non sappia farlo, è che semplicemente non sa che questa cosa è possibile, non sa che questa cosa esiste. Ok? Noi riusciamo a tracciare esattamente quello che è il viaggio che una persona fa dal momento in cui guarda anche un video, video di YouTube e poi magari passa Facebook e poi guarda un ad ma poi esce, poi entra e poi rientra di nuovo fino a quando compra, poi magari non compra più, poi ricompra di nuovo. Sappiamo ogni singola cosa. Ok? Ma questa roba è più semplice da avere solo se io rendo semplice questo, il percorso, perché più percorsi ho e più ho chance negative di perdermi il tracciamento delle persone. Ok? Perché il discorso qual è? Che quando voi aumentate la vostra superficie di azione, ok? Di azione, ho abbreviato, quando voi aumentate la vostra superficie di azione, possono aumentare quelli che sono i problemi. Ok? Perché avete da gestire delle parti più ampie del vostro business e quindi a un certo punto ci saranno le periferie del vostro business che sono completamente incontrollate, che però magari stanno producendo risultati che non sapete. E allora poi magari andate a spegnere delle campagne che in realtà non stanno tracciando le vendite come dovrebbero, però e poi accendete magari o scalate quelle che secondo voi stanno andando bene perché vi fermate magari al piccolo tracciamento magari di Google oppure semplicemente di Facebook Ads eccetera eccetera. Non è questa roba qua. Bisogna capire davvero come tracciare e come introdursi all'interno della vita delle persone, perché sono persone, noi facciamo business con le persone, per capire quando è il momento giusto di entrare con il vostro messaggio, ok? Magari per vendere quelli che possono essere prodotti di back-end eccetera eccetera una volta che avete acquisito quelli che sono i clienti. Ora, queste sono delle ragioni principali che ci portano ovviamente a dire ad alta voce e questa roba la dovete capire, che un funnel è meglio che 10. Ora, cosa però vi ho detto io? Che è importante ampliare quelli che sono gli angoli. Quindi qui partiamo da un concetto molto basilare, ok? Di norma in un'attività tradizionale, ok? Un'azienda, allora, cancelliamo qua. Di norma in un'attività tradizionale, tradizionale, ok? Le aziende hanno bisogno di fare promozioni ogni settimana barra mese, ok? Nelle attività tradizionali, intendo dire attività dove c'è un locale, dove c'è un negozio, dove c'è uno studio, eccetera eccetera, dove c'è qualcosa di fisico, un punto di riferimento che rimane lì fisso. E dove c'è un contatto soprattutto umano, ok? Ora, questa roba è valida anche nel business di informazioni? No. E la gente sta roba non la capisce. Per quale ragione non è valida questa roba qua? Per quale ragione fare un'offerta, una promozione diversa ogni singola settimana e lanciare un corso nuovo ogni singola settimana o un piccolo corso nuovo ogni singola settimana? Però è un casino soprattutto in front end. Perché purtroppo abbiamo a che fare con l'intangibilità. Il nostro business è di norma intangibile. Quindi anche se vendi consulenza, se vendi done for you e quindi se vendi servizi, vendi servizi di agency, vendi videocorsi online e via dicendo, in qualche modo c'è dell'intangibilità. Quindi l'unica liaison, l'unica connessione che c'è tra te e la persona lì fuori è solo ed esclusivamente, che ha comprato magari i tuoi prodotti, i tuoi servizi, è solo ed esclusivamente l'attenzione. Quindi il problema qual è? Che a un certo punto rischi di perdere l'attenzione delle persone se ogni singola settimana o ogni singolo mese gli proponi qualcosa di nuovo. All'inizio la gente ti segue, a un certo punto non funzionerà più. Perché se avrai richiamato ogni singola volta l'attenzione, avrai creato hype, poi di nuovo hype, poi di nuovo hype, poi di nuovo hype. A un certo punto è come la storia della lupo al lupo. Quando poi realmente hai bisogno di produrre qualcosa di nuovo, di innovativo, che magari cambia veramente il momento di lanciare veramente qualcosa di nuovo, poi perdi quella che è l'attenzione. Infatti, chi adotta questa strategia nel business delle informazioni non ha vita lunga ragazzi, non ha vita lunga. Ho visto questa roba fare per anni. Io stesso ho fatto questa roba per anni. 2015, 2016, 2017. A un certo punto hai un grande turnover di clienti nuovi, ma non serve a un cazzo avere un turnover di clienti nuovi quando ti perdi quelli già acquisiti. Perché quelli già acquisiti a un certo punto te li perdi. Perché non hai quel posto fisso dove le persone effettivamente si sentono parte di un'azienda che ha una missione, che ha una visione, che ha dei principi che loro sposano a pieno. Se la missione, la visione della tua azienda è solo quella di mettere soldi in tasca a te, prima o poi i clienti se ne accorgono. E non importa quanto buoni possano essere i tuoi prodotti, i tuoi servizi. C'è qualcosa di molto più grande che devi tenere in considerazione, proprio perché abbiamo a che fare con un business intangibile. Quindi, cosa dobbiamo fare per rendere, per adottare questa strategia mantenendo un funnel? Allora, ve la faccio molto semplice. Ipotizziamo che il vostro funnel principale sia, ad esempio, un VSL, oppure sia, ad esempio, un webinar funnel. Vedetela voi, come volete. Allora, noi abbiamo delle campagne pubblicitarie che possono essere Facebook, Instagram, YouTube, eccetera, eccetera, ok? Quindi queste sono tutte campagne, ad esempio Instagram, poi qua abbiamo LinkedIn, eccetera, eccetera, ok? Queste campagne portano dove? Portano a una pagina che è la opt-in page, ok? Opt-in page. Qua potete decidere di fare quello che volete, c'è una headline, c'è un pulsante, bla 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 bla, senza questo qua a spiegarvi poi le basi, che sono proprio basi, in realtà, se state guardando questo video, stai guardando questo video e sei arrivato qua, sei già oltre la base, ok? Successivamente abbiamo, in questo caso, magari un VSL, ok? Quindi un video, una video sales letter, dove, in fondo, ci può essere o l'acquisto diretto, oppure un pulsante per prenotare che cosa? Una consulenza strategica. Quindi potrebbe esserci un calendario, ok? Con varie date, ok? E la persona sceglie quello che è la data per parlare con uno dei vostri venditori, barra commerciali, barra chiamateli come volete, ok? Questo ovviamente genera vendite. In che percentuale? Dipende, ok? Di norma, un funnel del genere in evergreen, con venditore che sa vendere in evergreen, che è diverso dai venditori quelli che vendono solo nei lanci, nei lanci sa vendere pure mia nonna, deve avere una conversione maggiore del 20%, ok? Quindi il 20% è di norma la conversione che ho visto su di noi nel tempo, ok? Proprio mese dopo mese, giorno dopo giorno, negli anni, e che ho visto anche negli anni su tutti i miei studenti che ovviamente ottengono risultati molto importanti seguendo questi principi, ok? Questi sono principi di business. Siamo qua per creare un business solido, stabile e scalabile, non per fare soldi oggi, soldi domani, metterceli in tasca e poi chissà che cazzo altro fare tra due anni. Se volete fare quella roba, probabilmente io non sono una persona adatta, ok? Perché io per primo non lo faccio per me. Penso prima ai clienti e poi a me, ok? A me ci ho già pensato in passato, adesso penso prima ai clienti e poi a me e a che cosa è giusto per la mia azienda e per le 25 persone che lavorano all'interno della mia azienda, ok? Ora, qua abbiamo un funnel, ok? Questo è il funnel. Quindi nel momento in cui noi sappiamo esattamente che queste campagne pubblicitarie portano quelle che sono magari le persone all'interno di questa pagina o portano le persone all'interno di questa pagina o portano le persone successivamente, sempre in percentuale all'interno di questa, oppure le portano al telefono e poi si tramutano in ad esempio clienti, ok? Quello che noi dobbiamo capire è che ovviamente se la nostra offerta è questa o noi potremmo avere un'offerta, ok? O potremmo avere un paniere di due, tre offerte, quattro offerte. Anche qua, più offerte hai, più in realtà è pericoloso per il venditore vendere qualcosa. Meno è meglio, soprattutto all'inizio. L'errore più grande che potete fare è vendere dei bundle di prodotti dove il 90% non servono a un cazzo alla persona che c'è al telefono qua. Però, se magari vi addestrano a voler fare soldi e non ascoltare il cliente, cosa succede? Che magari riuscite a sfilare dei soldi, tanti soldi, 5, 6, 7, 10, 15, 20 mila euro al cliente che c'è da questa parte cercando di rifilargli mille corsi tutti in uno. In realtà cosa succede con quel cliente? Che nel 90% dei casi difficilmente poi acquisterà ancora qualcosa e difficilmente sarà contento al 100% di aver speso tutti quei soldi. È piccolissima la percentuale di persone che prendendo 10 corsi contemporaneamente poi ottiene risultati. È un dato di fatto. Quindi qua è sempre che cosa è meglio per il cliente. Ok? E che cosa è buono anche per l'azienda. Non c'è nessun motivo tante volte di proporre 10 prodotti se questa persona magari è entrata in consulenza per un prodotto o per un problema. Il vostro prodotto principale può risolvere quel problema. È molto meglio stringere una relazione con la persona e poi ricontattarla da 30 giorni per in caso fare dell'upsell. Ok? Per vendere qualche prodotto in upsell oppure in closell e via dicendo. È molto più facile magari stringere la relazione e magari dopo 30 giorni il venditore richiamerà, ascolterà come è andata, a che punto è magari dello studio, a che punto è di quello che sta facendo e magari propone quello che è un altro programma. Quindi si tratta più di un gioco nel lungo termine piuttosto che nel breve termine. E quando la gente vi mette fretta, no dovete sbrigarvi perché c'è da fare un sacco di soldi subito. Ragazzi non è così. Non è così. Cioè io vi invito veramente a ragionare con la testa da adulti e non da ragazzini. Ok? Ora siccome questo è un funnel come io vi ho detto, ma noi dobbiamo cercare di applicare questa strategia che rinfreschi sempre in qualche modo la testa e stimoli le persone ad agire, dobbiamo cercare di creare più angoli. Come faccio a creare più angoli? Ho due strade semplici, attenzione. La prima strada è quella di lavorare su questo segmento, ovvero il segmento delle campagne pubblicitarie. Ok? Quindi io ho a che fare con, ad esempio, un target di imprenditori, un target di dipendenti, un target di professionisti, un target di networker, un target di, che ne so, artigiani. Per dire, no? Quello che io posso fare è mantenere intatto tutto questo, perché questa roba deve funzionare e qua ci sono collegati i KPI. Devo mantenere intatto questo e quello che devo fare è creare varie campagne pubblicitarie con un copy a parte, con dei video a parte, che educhino queste persone singolarmente per quel che concerne il loro bisogno, il loro desiderio, eccetera, eccetera. Quindi io ho già creato, magari ogni singola settimana, ho creato degli angoli differenti che mi vanno a catturare il pubblico che voglio ovviamente prendere. Questa è una strada molto semplice. Ora, questa è una cosa che io consiglio sempre di fare e oltretutto la cosa bella qual è? Che nel momento in cui tu hai cambiato solo una variabile, perché qui tu hai cambiato solamente una variabile, ok? Quello che succede è che tu sai esattamente come leggere i numeri dei KPI e quindi tu riesci a sapere quale di questi target produce più vendite, produce più risultato. Se tu dovessi invece creare una roba diversa per ognuno di questi target sarebbe un casino capire che cosa funziona e che cosa non funziona, perché vai a cambiare troppe variabili contemporaneamente. Questa è la prima cosa che io ti consiglio di fare e la seconda cosa è quella di clonare semplicemente questa pagina e creare che cosa? Creare tutta una serie di, andiamo qua, tutta una serie di pagine differenti, ok? Possiamo creare veramente quante ne vogliamo e queste pagine non sono nient'altro che praticamente dei cloni di questa, quindi posso avere il pulsante che porta direttamente all'acquisto come posso avere il pulsante che mi porta alla consulenza strategica, ok? Ora, per quale ragione avere queste pagine clonate può aiutarmi in questa direzione qua? Perché quando tu hai qua catturato il lead della persona, ok? Quindi quando tu qua hai catturato, perdonami, i dati della persona, ok? Quando la persona è diventata un lead, ok? E tu ce l'hai all'interno del tuo database, ok? Questa persona di fatto vivrà tutta una serie di follow up. La maggior parte delle persone si dimentica dell'importanza dei follow up, ma la maggior parte delle persone fa anche magari l'errore di mandare solo ed esclusivamente i follow up, quindi le mail, sempre dove? All'interno di questa pagina, ok? Questa pagina va bene, però a un certo punto quella pagina è lì, è quello la comunicazione e non puoi per un anno continuare a mandare la gente sempre su quella pagina. L'ideale qual è? L'ideale è creare altre pagine che trattano argomenti affini a quello di cui parli qua, ma che stimolano magari target differenti che potrebbero essere entrati all'interno del tuo database e ognuno di questi video è di fatto un video 6 letter educazionale che porta le persone a voler prenotare la consulenza strategica oppure voler comprare direttamente quelli che sono i prodotti e questo processo qua può durare veramente all'infinito, non c'è fine a questo processo qua, non c'è fine a nessuno di questi processi, io posso sempre andare ad aggiungere altre pagine che vadano ogni singola settimana magari a trattare un argomento diverso che però serve a quello che è il mio pubblico, ok? Quindi così io posso senza distruggere il funnel che funziona posso andare a stimolare la testa del mio utente con angoli completamente differenti l'uno dall'altro ma che portano sempre alla stessa identica direzione, ok? Così si gestisce un business in Evergreen, ok? Quello che poi puoi fare successivamente è decidere che ad esempio dopo 25 giorni che la persona vive questa serie di follow up, ok? E che quindi magari non ha mai schedulato, non ha mai comprato, allora tu puoi andare a decidere di mettere in back end tutta una serie di sequenze con delle varie pause magari che ci sono tra una e l'altra, ok? Che vendono che cosa? Magari altre opportunità oppure altri prodotti oppure altri servizi che sono ovviamente servizi che fanno parte di che cosa? Fanno parte di questo paniere, sempre sbaglio, ecco qua, di questo paniere di prodotti di cui abbiamo parlato prima che ovviamente in front end possono solo ed esclusivamente incasinare chi? Incasinare questo pubblico, ok? E in back end però lo possono andare a educare oppure catturare per fare che cosa? Per farlo passare da lead a cliente, ok? Quindi sostanzialmente tu di facciata hai questo e funziona ed è gestibile, è misurabile ed è scalabile, ma sotto, quindi sotto, dietro tu hai questo processo che può tendenzialmente durare una vita, ok? E che può continuare ad educare le persone verso quelle che sono le tue offerte in back end senza andare a incasinare ciò che porta grano principale all'azienda, quindi questo è ciò che porta la grana principale all'azienda, ok? Questo è ciò che va a raccogliere tutto ciò che non si è ancora preso attraverso questo funnel qua, ok? E inoltre cosa succede? Che nel momento in cui tu trasformi il lead in cliente, la stessa cosa deve funzionare con il cliente, quindi ci saranno determinate sequenze cadenzate a livello temporale da determinati timer che deciderai, ok? Che portano la persona verso gli altri prodotti che tu hai, sempre in evergreen, con lo scopo però non di farlo saltare da un corso all'altro, ma di fargli migliorare sempre di più, questo è il prodotto principale che hanno comprato, fargli migliorare sempre di più ciò che hanno comprato per far sì che quello che vanno ad aggiungere sia semplicemente un booster, un amplificatore al prodotto primario che hanno acquistato, per fare in modo che non perda, che cosa? Sempre l'attenzione. Questa è la cosa più importante di tutte. Ora, come puoi fare a fare tutto questo? Beh, puoi prendere le informazioni che io ti ho appena condiviso e cercare di applicarle, ok? Oppure quello che potresti fare è cliccare il link che trovi qui in basso, prenotare una consulenza direttamente col mio team, ascolteremo quelle che sono le tue esigenze, ascolteremo qual è la tua situazione, il tuo modello di business, quello che stai facendo, cercheremo di capire quali sono i tuoi problemi e come noi possiamo andarti ad aiutare per risolvere questi problemi e scalare quello che è il tuo business. L'abbiamo già fatto con migliaia di persone e siamo certi di poterlo fare anche con te, se sarai disposto ovviamente a metterti in gioco, a chiudere le orecchie, a smettere di ascoltare pareri altrui e se ti focalizzerai a seguire le cose che ti diremo di fare. Quindi se sei questo tipo di persona, se vendi corsi, se sei un coach, se sei un consulente, se vendi servizi online e vuoi aumentare e scalare quelle che sono le tue vendite, prenota la consulenza, parliamone e molto presto magari potremo iniziare a lavorare insieme all'interno dei nostri programmi formativi. Io ti ringrazio e spero vivamente che questo video ti sia stato utile, mi raccomando ragiona sempre con la tua testa e ricordati che è un business vero e un business che gira in evergreen. Ciao! 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 Grazie a tutti.